E' illegittimo il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico proposto a verso il decreto del questore, decreto con il quale era stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno C per soggiornanti di lungo periodo. Nel caso di specie il questore ha negato il rilascio della carta di soggiorno perché si era scoperto una precedente condanna dello straniero per i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto d'autore e aveva illegittimamente ritenuto di essere vincolata ad adottare il provvedimento di rigetto. Stesso errore ha commesso la prefettura nel decidere il ricorso gerarchico. Ebbene la prefettura ha basato la propria decisione unicamente sull'esistenza di quella condanna senza valutare come non aveva fatto neppure la questura né il tempo da cui soggiornava in Italia lo straniero né il suo inserimento nella società e nel lavoro.